Il nuovo commissario all'emergenza Covid è il generale Francesco Paolo Figliolo, originario di Potenza, nominato ieri dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha deciso quindi di sostituire Domenico Arcuri. Lo rende noto la presidenza del Consiglio, aggiungendo che a Domenico Arcuri vanno i ringraziamenti del governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Nato a Potenza nel 1961, il nuovo commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Figliolo, è cittadino onorario del capoluogo lucano dal 7 marzo 2016. La cittadinanza onoraria gli fu conferita in una cerimonia che si svolse nella sala dell'arco del municipio Potentino, dall'allora sindaco Dario De Luca, il quale espresse il bentornato ad un figlio della città di Potenza. Siamo fieri di lui, disse il primo cittadino. Si tratta dell'ennesima persona originaria della Lucania che riveste un ruolo molto importante a livello governativo. Il ministro della Salute, infatti, il ministro Speranza, è di Potenza. Il ministro dell'Interno, anche il neo sottosegretario all'editoria, è di Potenza. E in ultimo, ma non per ultimo, il neocommissario per l'emergenza Covid, per l'appunto il commissario Figliolo, è di Potenza. Tra i tantissimi incarichi ricoperti dal neocommissario in ambito internazionale, ha maturato esperienza come comandante del contingente nazionale in Afghanistan nell'ambito dell'operazione ISAF e come comandante delle forze NATO in Kosovo dal settembre del 2014 all'agosto del 2015.